Signori Gianluca Di Marzio sgancia la bomba, anzi è una bombissima, ma per prima cosa voglio buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis, 1926, per prima cosa iscriviti al canale, è gratis Signori ieri mentre la Georgia in Georgia si festeggiava il passaggio del turno faccio nuovamente i complimenti a Kvara, eh? Questa cosa poi, eh? Comunque, tralasciando questo, ieri sera durante il calciomercato su Sky Sport Gianluca Di Marzio ha sganciato la bomba come vi stavo dicendo e dice Blitz in Germania di Aurelio dell'Aurentis e Manna, si tratta il rinnovo di Kvara Signori si è mosso addirittura Aurelio dell'Aurentis e quando si muove dell'Aurentis sappiamo tutti che c'è qualcosa di grosso Questa cosa, questa cosa secondo me è data grazie soprattutto alla prestazione di ieri sera proprio di Kvara, che poi ha parlato anche del suo futuro, eh? Kvara ha parlato, ora andremo a vedere, ha parlato ai microfoni di Rai Sport ma secondo me il Napoli, vista la prestazione di ieri, ha visto il passaggio del turno della Georgia ha detto sai che c'è, facciamo una cosa, facciamo che io vado in Germania già gli faccio vedere che sto andando lì, così io gli propongo il rinnovo di contratto e quindi si sta iniziando a muovere, poi è stato categorico ieri ragazzi Antonio Conte Kvara e Di Lorenzo non si muovono, non si muove nessuno ho ancora i brividi per la conferenza stampa di ieri comunque Kvara ieri ha risposto ai microfoni di Rai Sport e ha detto Conte ha detto che il resto non lo so ancora io lo rispetto perché è uno degli allenatori migliori al mondo ma voglio prendermi ancora un po' di tempo per decidere io rispetto Napoli, amo Napoli ma ancora non so dare una risposta certa sul mio futuro così ieri sera Kvara Schiega dopo la partita contro il Portogallo ah, cosa molto importante, perché ho letto alcune dichiarazioni molti napoletani si sono sentiti risentiti perché Kvara dopo la partita gli hanno detto è paragonabile questa gioia allo scudetto vinto con il Napoli e lui ha detto lo scudetto con il Napoli è stato magnifico ma vincere con la nazionale ha tutto un altro sapore ragazzi ma potete paragonare uno scudetto vinto in una città che non è tua naturalmente perché tu vieni a giocare poi te la puoi fare anche tu la squadra però vuoi mettere un passaggio storico per la prima volta la Georgia va agli ottavi se non erro ragazzi ma non è nemmeno paragonabile è come se Insigne, per farvi un esempio, Insigne vinceva il mondiale non ci siamo ancora mai andati con Insigne al mondiale comunque te la lasciando questo e gli domandi a cosa è più importante lo scudetto o il mondiale vedete ogni giocatore cosa vi risponde di sicuro ti risponderà il mondiale ed è normale che Kvara abbia risposto in questo modo anzi se diceva il contrario diceva io che sei scemo ecco comunque ci sono veramente importanti aggiornamenti per quanto riguarda anche Buongiorno perché dice Fabrizio Romano Buongiorno Napoli non è un affare chiuso ma è molto vicino al gong finale l'affare potrebbe concretizzare solo ed esclusivamente dopo Euro 2024 ma ad oggi il Napoli ha un accordo col giocatore ed è l'unico club disposto a spendere 40 milioni per il difensore Urbano Cairo, presidente del Torino, spera in un'asta ma ad oggi non ci sono altri club interessati se la situazione non dovesse cambiare è probabile che si chiuda la trattativa per Marin è solo questione di tempo nei prossimi giorni effetturrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al Napoli sarà la prima operazione di Antonio Conte in entrata poi Sport Mediaset ragazzi dice questo il Napoli prepara il colpo Gasova talento brasiliano del Corinthians attaccante esterno classe 2005 ottimi le odifisiche in questa stagione 4 gol tra il Brasileiro Coppa Sud America e Coppa do Brasil emissari in Brasile per conoscere la famiglia l'affare si può chiudere la valutazione di Wesley rientra nei parametri finanziari del Napoli anche se nel contratto che lo lega il brasiliano al Corinthians fino al 2027 sembrerebbe ci sia una clausola per l'Europa di 10 milioni ma io 10 milioni non sono nulla diciamoci la verità poi vabbè Conte che ringrazia i tifosi sui social tanta roba ecco il futuro di Juan Jesus è ancora in dubbio Conte sta riflettendo sul difensore centrale il brasiliano potrebbe partire potrebbe partire anche Osticar durante la finestra estiva e ragazzi il Napoli sta diciamoci la verità il Napoli sta per rifare tutta la difesa Buongiorno potrebbe arrivare Hermoso soprattutto potrebbe arrivare poi il Napoli sta trattando questo giovane talento Antonio Vergara anzi scusatemi la Samp è interessata a Vergara però c'era un altro attaccante Leoni vedi il Napoli e Inter sono su Leoni la Samp chiede 5 milioni il Napoli dice Gianluca Di Marzi ha offerto 30 più 5 milioni di bonus il Torino ne chiede 35 più bonus quindi quella cifra intorno ai 40 milioni Zanoli indirittura ad arrivo al Genova prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni ragazzi non pochi non pochi sinceramente però veniamo un pochino anche alle cose più belle Kvara ieri è stato premato come miglior giocatore dopo Giorgia Portogallo anche anche Lobotka è stato premiato ragazzi come miglior giocatore due due ne ha vinti due su tre Lobotka tanta roba tanta roba per questo che io vi dico che il futuro della nazionale deve essere del futuro della squadra scusatemi non nazionale non stavamo parlando di nazionale deve essere legato soprattutto all'oro ieri ieri è uscito il leak della maglietta perché molti tutti guardano ma la maglietta nuova quando esce quando non esce ragazzi la nuova maglietta ho presunto tale ma io penso che sia molto vera perché c'è Olivera che fa da testimonial è uscita cioè è uscita sono usciti questi leak e ragazzi è questa qui io poi ve la metterò anche come immagine di copertina e ragazzi questa dovrebbe essere non so se si vedrà mai bene con la luce ragazzi aspetta vediamo se riusciamo a fare una cosa del genere questa dovrebbe essere la nuova maglietta del Napoli lo vedete come è diversa rispetto alla passata stagione cambia veramente molto ragazzi andiamo così forse si vede un pochino meglio così vedete è tanta roba è tanta roba si vede questo colletto bianco ora io spero sia un colletto perché sinceramente queste magliette con questo collettino finto un bel collettino che si rigira poi si vuoto rigira è tanta roba secondo me quindi staremo a vedere Valentina cosa si sarà inventata ci dovrebbe essere e dico ci dovrebbe essere perché conferma non ce ne sono ebay non ci dovrebbe più essere ci dovrebbe essere invece coca cola coca cola che va sul bordo quindi il Napoli mette il logo sul bordo io non mi ricordo se l'anno scorso c'era il logo sul bordo ma forse no c'era dietro appbit una cosa del genere non mi ricordo di preciso Rivan MSC Crociere che è diventato il main sponsor del Napoli e finalmente però quella magliettina lede qui davanti cambia il logo cambia il logo del Napoli diventa tutto bianco che si va a compattare con l'azzurro della maglia quindi questa maglia qui è molto più azzurra rispetto a quella che avevamo visto nelle passate stagioni tanta roba voglio tanta roba comunque alcune considerazioni su su Kvara ragazzi perché questa cosa che tutti quanti di Roma Kvara di qua di là ragazzi se il giocatore è già detto Kvara non va via Kvara non va via Kvara rimane a Napoli ora dovremmo vedere se se questa cosa che ha detto Di Marzio sia vera che Mann e De La Lentis stanno volando in Germania per proporre l'affare a Kvara io penso che in questo momento il giocatore non pensa al Napoli e l'ha già detto l'ha già detto diverse volte però ecco sono molto sono molto fiducioso sono molto fiducioso di questa cosa di questa trattativa fra Kvara e il Napoli Ozyman come ci ha già fatto capire Antonio Conte andrà via e quindi i soldi per Lukaku ci saranno perché molti dicono ma i soldi per Lukaku ci sono ragazzi i soldi per Lukaku ci sono non penso che il Napoli però voglia spendere quei soldi 40 milioni se non sbaglio chiede il Chelsea Folli è più totale vedremo se troveremo un accordo per chiudere in qualche altro modo buongiorno si avvicina ermoso idem ragazzi perché il Napoli vuole rifare completamente la linea difensiva e Conte l'ha detto l'anno scorso siamo stati la decima difesa e così lo Scudetto non lo vince addirittura in casa abbiamo subito più gol in casa che fuori casa e questa è una cosa che deve far riflettere deve far molto riflettere al presidente Aurelio della Randis che secondo me deve iniziare a pensare veramente a cacciare questi costi questi soldi intanto un ultimo aggiornamento di mercato ce lo da Luca Cerchione il grande Cerchione se quale ad essere il proprio 100% in ogni partita ci troveremo di fronte a uno dei calciatori più forti e determinati nella storia del calcio la cura Conte gli darà la sicurezza e la preparazione fisica per arrivare ad avere prestazioni costanti e questo è vero anche questo è vero ragazzi comunque staremo a vedere bellissimo il fatto che Giorgio Portogallo è andato in tendenza 11 anni fa quando Ronaldo visitò la scuola di Dinamo Zibili Kvara era accanto a lui oggi Kvara lo batte cioè rendiamoci conto sono passati 11 anni è bello se non erro fammi vedere se ho Instagram sul tablet non credo ma forse ce l'ho Kvara ha postato la foto proprio di ieri ragazzi se ve la riesco a far vedere ve la faccio anche vedere allora andiamo sul profilo di Kvara eccoci qua dreams ragazzi dreams sogno guarda qua e poi vabbè tutte le esultanze giustamente ragazzi perché che giustamente come fai non festeggiare una cosa del genere Kvara tanta roba tanta roba e poi la foto con la maglia di Cristiano Ronaldo un po' sforterlo diciamoci la verità comunque tanta roba e poi ha ripostato anche lui la foto che vede Kvara piccolo Kvara grande tanta roba tanta tanta roba ah c'era anche la moglie di Kvara ieri sera vedi fa tutte le foto anche alla maglia di Ronaldo e tutto tanta roba questo è un talento è un talento e va tutelato caro Aurelio è ora di battere il colpo perché se batti il colpo adesso dopo le dichiarazioni di Conte secondo me l'anno prossimo non lo voglio dire non lo voglio dire però vista l'importanza dell'allenatore è visto è visto la mole di tifosi che sta muovendo Conte in città oggi è stato fatto addirittura il primo il primo murales per Antonio Conte non lo so ho una ho una vaga sensazione che ci potremmo ripetere comunque stiamo zitti pedaliamo come ha detto Conte io vi ricordo di iscrivervi al canale di Napoli se ancora non l'avete fatto sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapoli 6.926 noi ci vediamo più tardi verso mezzanotte per gli aggiornamenti di calciomercato che di sicuro ci saranno questa sera non ci sono più partite degli europei fino a domani se non sbaglio comunque iscriviti al canale attiva la campanellina oh siamo quasi agli 8k forza vai un